Il viaggio a piedi è rallentare, il viaggio a piedi è scoprire la natura a passo lento, riscoprire l'Italia a passo lento e quindi è un'opportunità di un viaggio diverso che fa entrare dentro lo spirito dei luoghi e fa incontrare le persone da vicino. Ci sono desideri covati nelle lunghe ombre dell'inverno, come quello di ritornare a viaggiare scoprendo lentamente luoghi, profumi, tradizioni. Fai lo zaino, saluta e parti. Questo è l'invito di Cammini Italia, libro della Compagnia dei Cammini, associazione nazionale nata per diffondere la cultura del camminare in Italia. Una guida preziosa con 20 cammini a piedi, uno per ogni regione italiana, adatti a tutte le età e percorribili tutto l'anno. Cammini Italia è rivolto a tutti, è una guida pensata per chi non ha mai fatto cammini, anche, e quindi anche per chi è novizio di questo tipo di viaggio e di vacanza. Una guida pensata proprio per chi camminando vuole ripartire con un nuovo passo per un viaggio diverso, da solo in compagnia all'insegna del benessere, della consapevolezza e del divertimento. Per farlo si può cominciare anche senza allontanarsi troppo. Per il Lazio abbiamo scelto un classico, la Via Francigena da Viterbo a Roma, perché la Via Francigena ormai sta diventando uno dei cammini più importanti in Europa, sicuramente il più importante in Italia, e perché arrivare a Roma a piedi, arrivare in Piazza San Pietro, è un momento di emozione unica da provare.